La domanda che ronza sicuramente nella testa dei tifosi è soltanto una Riusciranno i loro beniamini nell'impresa? Si prospetta un altro test importante per la Cielo Le bandiere sventolano da un pezzo e l'atmosfera è senza dubbio già rovente Tra non molto però saranno i giocatori a scendere in campo e a doverci credere fino in fondo Che colpisce verso la porta Ci prova con un pallone profondo Sceglie di andare per via verticale La mette in mezzo Incorrata! E la paga anche in rito! Non potevano desiderare un inizio di partita migliore di questo Un gol nei primi minuti segnato dal giocatore Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati Grande rapidità di esecuzione Leandro Damiò! E c'è il gol! Tutto da rifare! Una reazione incredibile li ha portati subito al pareggio! La squadra avversaria ha rallentato un po' dopo il cuore da aumentare il ritmo Cogliendoli di sorpresa e rimettendo subito la partita in parità Impressionante! Un gol da Accademia da mostrare Si riparte di nuovo in parità Beh il mister non sarà certo contento Erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo pareggio Dovrà lavorare di più sulla concentrazione Correstieri ha visto partire il pallone si è proposto anche colpisce il pallone Che delicioso! Che classe! Garrete! Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio Un fantastico tiro al volo per un grande gol Una conclusione da urlo Vede la palla Cerca di stinto la volè E calcia con grande convinzione Un gol davvero Si rompe l'equilibrio E adesso la gara si fa interessante Pallone in verticale L'arbitro non ha dubbi Calcio di punizione Ecco il tiro! E l'esterno Pallone fuori davvero di pochissimo Gran peccato Fa del suo meglio per allontanare il pericolo Pericolo sventato In velocità Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione Non si lascia bindolare Recupera palla Vede lo scatto e cerca la profondità Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione L'idea del passaggio era giusta Gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico Prova a giocare Passaggio sulla destra Prova a calciare E' un grande riflesso qui Ha messo alla prova il portiere Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non avrebbe mai arrivato Si sbagliava Leandro Damiao Allarga il gioco con pallone a sinistra Leandro Damiao L'avversario alla meglio nel corpo a corpo Sceglie il pallone morbido Errore qui pallone sprecato Brutta questa transizione Fabio Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male Ma l'hanno sciupata Il giocatore viene fermato Prova l'ottimo respiro di questo primo tempo Facile Anche troppo direi Ha eseguito un movimento da attaccante di razza Ma il passaggio non era da meno Tutta l'azione è stata da Manuel Parità ancora Primo tempo davvero interessante Tutte e due le squadre si sono date Ecco il primo pallone del secondo tempo Leandro Damiao Leandro Damiao Leandro Damiao Ottimo disimpegno La spazza via Ripartiranno con una rimessa Intercetta la rimessa Bell'anticipo Prova a darla profonda Nello spazio E poteva essere un'azione importante Difesa però Ben posizionata Soltanto rimessa laterale Qui Mi pare vogliono dominare il possesso di palla Sì Fabio esattamente Giocano più stretti Provano a servire sempre l'uomo E mantengono il possesso Con una fitta rete di passaggi Non si fanno neanche problemi A darle indietro se serve Il punto è far muovere la difesa avversaria Per poi trovare gli spazi giusti Sceglie di andare 22.300 La mette dentro a raso terra João Smith Allarga il gioco a destra Cercano un'azione veloce Se ne va Rovina la festa agli avversari Intercettando il pallone Pallone interessante In verticale Interrompe l'azione avversaria Con un anticipo Beh questo è un passaggio Quanto meno discutibile Fa male i calcoli Il pallone non passa Buona l'intenzione del passaggio Ma non l'ha calibrato bene E per gli avversari Non è stato difficile per Mazioni Bella azione Vede lo scatto E accendita Giocata nello spazio In profondità E passa L'ago della bilancia Potrebbe pendere Da una parte o dall'altra Non si stanno risparmiando sforzi Mamma mia Tenta Grande occasione Hanno girato La manopola De densità E si Vede Fabio E' gratis Assistero Così In cui entrambe le squadre Giocano per la vittoria Fino alla fine Riceve un pallone interessante Forestieri Ci prova con un pallone profondo Pressing molto fisico Ma regolare per l'arbitro Palla recuperata E L'arbitro chiude qui la partita Alla fine Allora bastava un pallone Ci aiuti a capire Che partita è stata Quella di oggi Luca Vero avrebbero potuto vincerla La partita di oggi Ma in ottica generale Possono ritenersi Molto soddisfatti